Secondo me adesso che sta calando il sole stanno cercando un punto dove fermarsi di posare a dormire però stanno arrivando veramente in tanti sono fatica a mettersi in ordine si stanno spingendo l'un l'altro ma adesso piano piano si metteranno a posto guardate che molti sono già fermati e dopo